Musica Sappiamo davvero valorizzare il nostro patrimonio fatto di mille bellezze paesaggistiche, di arti, di mestrieri, di tradizioni? Lo sappiamo fare, lo facciamo abbastanza e quanto è importante in questa fase così delicata? Oggi ne parliamo con Davide Rampello che è un grande narratore del nostro paese, dell'Italia, dei suoi territori, dei valori, oltre che per nove anni presidente della Triennale, da nove anni inviato di striscia la notizia con Paesi Paesaggi, regista TV e ora anche direttore scientifico del Master in Comunicazione delle Identità Territoriali. Spero di non aver dimenticato nulla anche se la lista è molto più lunga, grazie professore per essere con noi. Grazie a voi, grazie a voi, vedete che posto meraviglioso sono. E allora partiamo da lì perché lei si trova a Ravenna a proposito di saperi che si traducono nella saper fare. Esattamente, sono a Ravenna perché sono venuto per incontrare gli artigiani, i progettisti che qui a Ravenna in una meravigliosa fabbrica, direi una grandissima bottega, la Sicis, lavoreranno, collaboreranno con noi nella realizzazione di una parte del padiglione italiano all'Expo di Dubai. Lui dovranno realizzare un fantastico mosaico che ornerà il teatro della memoria e poi degli arazzi che decoreranno e segneranno il percorso stesso dell'esposizione. Per cui una meraviglia vera. Ecco, tra l'altro lei ha una lunga tradizione e conoscenza delle diverse esposizioni, ha curato anche il padiglione dell'Italia, se non sbaglio, per l'Expo di Shanghai e quello di Milano. Padiglione zero a Milano, certamente. Che Italia si racconta invece adesso? Beh, l'Italia che andremo a raccontare è l'Italia, diciamo, della bellezza, intesa. Allora, lei sa che il tema dell'Expo di Dubai è connecting mind, mettere assieme le menti, mettere assieme le genti. E' chiaro che si fa riferimento a tutto quello che è la connessione digitale e infrastrutturale in genere. Noi pensiamo che tutto questo sia sicuramente importante e utile, ma per mettere assieme e unire gli uomini più che le infrastrutture sia importante, oltre che le infrastrutture siano importanti e fondamentali, i valori. E pensiamo che in questo la bellezza sia il valore fondante per cui, diciamo, gli uomini stanno assieme. Perché la bellezza è la sintesi del bello, del buono, del vero e del giusto. Perciò è una visione che comprende anche una visione profondamente etica. Questo sarà il percorso che i visitatori italiani del mondo a Dubai troveranno. Proprio un percorso che mette in risalto i nostri paesaggi, frutto del nostro lavoro. Perché il paesaggio italiano, oltre che avere delle bellezze naturali straordinarie, è frutto del lavoro dei contadini, dei boscaioli, di chi ha costruito i borghi, i comuni, le città. È una cosa veramente straordinaria. E oltre a questo, evidentemente il racconto proseguirà con il saper fare italiano e poi la grande ventura della scienza italiana. Non dobbiamo dimenticare che l'Italia è un paese di arti e di scienze. Per cui metteremo in risalto anche questo, racconteremo anche questo. Un po' quello che lei, insomma, negli anni ha raccontato, anche con un libro, Italia fatta a mano, che racconta e sapere le tradizioni del nostro paese, ma non solo, anche la forza e l'importanza di quello che è il capitale umano, beni culturali viventi. In questo momento, allora, professore, come si riesce, si dovrà ripartire proprio concretamente da settori che di fatto subiscono un impatto pesantissimo della pandemia? Quando noi diciamo valorizzare i territori, dobbiamo intendere che dobbiamo valorizzare soprattutto gli uomini che in questi territori svolgono tutta una serie di attività, dall'attività della ristorazione, dai vignaioli, dai casari, dagli artigiani del cuoio, qualsiasi. Dobbiamo ripartire raccontando le storie di questi protagonisti, perché oggi è fondamentale il rapporto di relazione. Il turismo, purtroppo, ultimo, diciamo, di cui eravamo abituati, è stato un po' un turismo che ha, posso dire, molto frettoloso, molto affrettato, che prendeva più che dare e non aveva quasi mai relazione con il territorio. Oggi bisogna, diciamo, cominciare a praticare l'ospitalità, l'economia dell'ospitalità. Perché? Perché è ospite chi ospita, è ospite chi è ospitato e questo implica relazione. Il turismo deve diventare economia di relazione. Per questo le storie sono fondamentali, perché l'uomo approccia l'altro uomo attraverso una storia, attraverso un racconto. E questo è quello che intendiamo fare quando abbiamo pensato, quando ho pensato di realizzare un master presso l'Ulm e l'ho proposto la Regione Lombardia, che subito ha accettato, e in questo ringrazio la sensibilità del Presidente e di chi ha deciso questo. L'idea è proprio quella di, diciamo, strutturare un percorso che deve risvegliare, il rinnovamento di un turismo consapevole, passa attraverso queste cose. L'ascolto, il racconto. Bisogna rendere protagonisti questi formidabili beni culturali viventi. Sì, si raccontano spesso le storie degli oggetti nel nostro paese, forse meno le storie di chi li fa e forse anche da qui bisogna ripartire. Poi ci sono tanti dati reali con cui però dobbiamo fare i conti. Professore, lei raccontava dell'importanza di questo master di cui è direttore scientifico e le chiedo anche quali sono gli obiettivi anche di fronte a un mondo che di fatto cambia. Noi qui a TGCon24 lo raccontiamo spesso, ma non raccontiamo soltanto gli effetti della pandemia, raccontiamo il lungo periodo, si spopolano sempre di più. Per esempio, i borghi antichi non è un effetto di adesso, è un effetto che ha le radici nel passato, no, professore? E ci sono anche tanti piani di rinascita. Per esempio, adesso si parla molto di una sorta di patto di reciprocità con le città più grandi e più attrattive per rendere i borghi sempre più interconnessi. Ecco, chiedo a lei, questa potrebbe essere una strada? Questa è una strada, ma i borghi, se noi andremo a valorizzare, valorizzare un borgo vuol dire andare innanzitutto a conoscere che cosa è questo, la storia del borgo. Perciò conoscere le sue qualità, conoscere la qualità del territorio. Molte volte, abbiamo trascurato per esempio tutta una serie di coltivazioni, abbiamo trascurato e abbiamo abbandonato tutta una serie di tradizioni. Oggi probabilmente il recupero di tutta una serie di attività può trovare sicuramente uno sbocco economico. Io sostengo e lo scrivo nel libro che piccolo non è bello, piccolo è prezioso. Ossia quello che conta è dare valore alla qualità che produciamo. Non è importanza produrne moltissimi pezzi. L'importante è che quelle forme di formaggio, quelle mille forme di formaggio abbiano l'accesso a chi vuole comprarle all'adeguato prezzo che meritano. Questo conta. Oggi non c'è mai stato tanto danaro in giro. Vuol dire che c'è moltissime persone che hanno tanti danari e che chi ha danaro vuole fare esperienza, sia vuole come tutti del resto, ma chi è evidentemente ce l'ha e ha più favorito, vuole conoscere e noi dobbiamo con tutta questa straordinaria varietà di cose che produciamo diverse. Proprio questa diversità è ricchezza. Questa diversità è ricchezza. Noi dobbiamo dare valore e dobbiamo dare accesso a questi produttori, alle reti che questo valore possono apprezzare e possono comprare. anche perché professore cultura deriva da coltivare in un senso forse più esteso del termine. Questo è il vero senso profondo. Lei ha detto, ha toccato un tasto importantissimo. Cultura viene da colere, coltivare. E' l'uomo colto, è l'uomo coltivato alla vita innanzitutto perché è che sa coltivare. Non a caso in latino abitare si diceva incolere, perciò si abitava se si coltivava. Evidentemente non solo coltivava la terra ma si coltivava l'altro da noi. Per cui questo concetto di coltivare, di curare è il vero obiettivo della cultura. Purtroppo la gente spesso scambia la cultura per l'esercizio delle arti, cose fondamentali, importantissime, ma la cultura è un modo di affrontare e di interpretare la vita. Questo è la cultura. La nostra capacità di relazionarci con gli altri, la nostra capacità di valorizzare l'altro da noi e noi stessi. Questo è cultura. Quanto siamo aperti davvero all'altro? A che punto siamo con la valorizzazione del diverso da noi? Anche in senso più esteso, più generale, non parlo solo dell'Italia. C'è molto da fare. l'uomo ha timore. Oggi, anzi, l'uomo di oggi è molto più fragile e molto più timoroso dell'uomo di una volta perché, come posso dire, è un uomo tutto sommato molto protetto da tante cose. Giustamente l'evoluzione della nostra civiltà ha portato a questo, ma come posso dire l'uomo deve cominciare a imparare questo tipo di, a riprendere questo tipo di diciamo di forza perché bisogna essere forti per relazionarsi perché non bisogna avere timore dell'altro per cui bisogna superare barriere così di diffidenza, di diffidenza. Lei ha girato e continua a farlo l'Italia e a raccontarcela in tutte le sue tradizioni, i suoi saperi, le meraviglie dei paesaggi e dell'uomo. Qual è la tradizione che non si aspettava che ha scoperto? Devo dire la verità che in realtà sono sempre sorpreso perché la rubrica come lei sa si chiama Paesi e Paesaggi. Il paese è il racconto che noi facciamo del territorio ma il paesaggio è la storia dell'uomo che incontro e devo dire che ogni volta è una sorpresa perché se noi andiamo a fondo con chi incontriamo con chi esercita archi e mestieri in generale saremo sempre sorpresi sempre sorpresi. C'è un bellissimo verso di un poeta inglese che è morto recentemente si chiamava Peter Russell che diceva ogni uomo è una specie umana ed è così vera così profonda questa diciamo questa verità ed è quello che diciamo ed è il quello che io perseguo cerco costantemente la ricerca è una cosa costante che noi dobbiamo fare io anche col gruppo di lavoro io ho uno studio creativo con cui progetto le cose e ho una piccola ristretta nicchia di collaboratori e ci coltiviamo a vicenda l'obiettivo è sempre quello di approfondire costantemente di ricercare costantemente non finiamo mai di conoscere perché prima di tutto conosciamo noi stessi perciò la domanda che lei mi fa le dico dovrei raccontarle diciamo i 300 paesaggi i 300 perché ormai sono più di 300 i protagonisti questi beni culturali viventi che ho avuto la fortuna di conoscere ci vorrebbe altro che un canale on news per farlo sarebbe bellissimo però dedicare un canale a questo noi siamo molto contenti infatti oggi di averla ospite e vorrei proprio concludere su quest'analisi che stava facendo perché è giusto e bello ricordarlo e noi lo facciamo spesso qui le diversità dei nostri territori le chiedo che cosa si aspetta allora anche da questa avventura che la vedrà come direttore scientifico la vede come direttore scientifico in questo master comunicazioni delle identità territoriali identità e territori poi sono davvero le parole chiave che hanno accompagnato questa nostra chiacchierata insieme beh intanto mi aspetto che di essere utile a chi seguirà questo e essere utile vuol dire sperare e contare che quello che le finalità che le ho espresso siano vadano a buon fine ma soprattutto che questa cosa diventi un metodo una modalità è fondamentale oggi che l'uomo si riappropi non solo di tutti i bagagli e delle cognizioni tecniche tecnologiche scientifiche ma si riappropi di un bagaglio che ha dimenticato secondo me che è il bagaglio dei sentimenti perciò del bagaglio dell'attenzione dell'ascolto della generosità che abbia più fiducia nella conoscenza delle cose anche attraverso la fantasia l'intuizione tutta una serie di modalità che diciamo diciamo di 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 essere che è stata un po' messa da parte da una cultura eccessivamente positivista eccessivamente pragmatica oggi l'uomo si è accorto della fragilità della fragilità che ha e per cui per vincere questa fragilità deve ricorrere a tutti i talenti che lo fanno veramente figlio del figlio di Dio questa intuizione che l'uomo aveva avuto di essere figlio di Dio ossia di essere di avere talmente tante qualità che lo portavano a identificarsi come figlio di Dio beh penso che dentro a questa intuizione straordinaria dell'uomo ci siano valori inespressi o valori da esprimere formidabili grazie Davide Rampello per essere stato con noi grazie per questa intervista buon lavoro e grazie anche per averci raccontato il suo grande lavoro che da anni porta avanti per raccontare il nostro immenso patrimonio noi ci rivediamo per la prossima puntata tutte le puntate come sempre le ritrovate sul nostro sito grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti